ma che bello che bello dove andiamo? c'è amare è stato male? ah mannaggia la puttana ero contentissimo mi sa che mi è uscita la spalla mi sa che mi è uscita la spalla non riesco a muore mannaggia la marina ma come è successo? eh siamo trovati sulla stessa curva ah la spalla mannaggia la marina mannaggia vuoi alzare? no alzare si è la spalla mi fa male ma non ho il giambo? no è uscito si è uscito si è uscito la stai tirata la stai mettendo a posto ma che tira la stai mettendo a posto? non sto incapace se è uscita la spalla se mi dici cosa devo fare te lo faccio io ti aiuto non lo so non lo sai? no ma ce la fai a scendere giù? e vediamo giù se c'è una guardia che te la fai mettere giù sul dentro provamola a tirare provamola a tirare un attimo sei sicuro? secondo me no vai piano dimmi in che direzione? verso l'esterno di qua? si piano vai ma come? cazzo ma forse è meglio che lo portiamo io non sono capace almeno io fiammarino mannaggia se per scendere piano piano andiamo da qualche parte aiuto è ancora fuori? si vuoi un'altra bacchetta? e lì? se abbassami la cosa no un'altra bacchetta ce l'hai tu? una ce l'hai da tu? no aspetta no ce l'hai tu? vai cazzo non ho proprio visto come si è caduto ho visto solo che hai fatto un urlo e no non riesco a muole e andiamo giù dai lascia le bacchette a noi scendi via la piano dammi a me la bacchetta se vediamo un insuratore diciamo magari una volta speghiamo quelle guardie mediche eh infatti quella è di proprio e Ah Dai cazzarola vuole usciare porco due Ma il traccio non muore Sì no è la spalla La spalla che Siamo arrivando un minuto Abbiamo avuto un infortunio No non è giusto a fare Sì siamo un po' assopra Sì no è giusto a fare Luca 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 Puoi andare a chiederli dentro se c'è Ma sicuro che questa si va pure Ah Aspetta l'ho rimessa L'ho rimessa A questo punto fa tirare controllo Ah 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 Sì no è giusto Ah Forse l'ho rimessa a posto adesso Sì Ma ti esce spesso No è la prima volta No Quale? La sinistra La muovi? La muovi? Muovi le mani? Sì no muovo Sì Eh non so Ma è la marina Ma è la marina Potrebbe essere uscita Potrebbe essere uscita E rientrata in realtà Eh adesso Perché prima Pino a molo Non mi è riuscita Non mi è riuscita Non mi è riuscita Ma è chiaro Che per la sicurezza La puoi avere solo con una Una bella lastra Fantastico Però vedo che adesso 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 mi è riuscita Mi è riuscita Adesso voglio sciare, ci provo, cerca di muoverla almeno possibile, poi magari stasera si sente ancora dolore, vai a partire dolore, e c'è una lastra, vediamo, vabbè grazie mille, e la tua racchetta? eh mi sa che ce l'ha, l'altra ce l'ha a Luga, ma questo sembrava che fosse così, adesso si, no prima non riusciva a pensoloni sotto, non riusciva a muoverla, ho dato un paio di cazzotti, fare di si, occhio perché una volta che esce poi si è abbastanza soggetto no? eh bellissimo, perfetto, grazie mille, perché sarebbe da muoverla almeno possibile adesso? eh infatti, ci proviamo, va bene, grazie, grazie, mannaia la mannaia